Il suggestivo concerto all'alba del pianista Roberto De Nitis, accompagnato dal sorgere del sole, chiude i tre giorni del Cryptalis Fest, il festival multidisciplinare del comune di Grottaglie con la direzione artistica di Roy Paci. Per tre giorni iniziative che hanno riconnesso il centro con la comunità, animando Centro Storico e Cave di Fantiano, partendo da cantautori sotto l'albero per conoscere e scoprire giovani e talentuosi cantautori, poi un focus sull'importanza dei cammini e della riscoperta del mondo rurale, sviluppo sostenibile e uno show cooking gastrofonico. Sul palco in piazza Regina Margherita, una sorta di cubo di rubik musicale, folk, gypsy, swing, rock and roll e reggae. Connessioni ed emozioni all'alba del terzo giorno chiudono la prima edizione del Cryptalis Fest.